ah vi regaliamo un gioco ciao Falco, ciao Dix ma non salutare, ti voglio fare l'intro ciao intro che cambiasse la scena salutiamo l'intro siamo entrati in una macchina non entrare lì, abbiamo dovuto fare il maschio allora dobbiamo saltare insieme, capito? ok, a tre, Dix ognuno in uno no, io prendo questi due, voi andate lì non li prendi? si, li prendo Stoner Stoner Stoner, tu sei Dix, tu sei uno, due, tre ahhhh che cazzo hai fatto? vai dai l'altro, vai dai l'altro Stoner, vai dai l'altro Stoner 3 2 1 Dix va bene Stoner fuori tempo ehi 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 due app fatiti che era app Andrea e Andrea qualcosa stava facendo la fatica hai svelato il mio nome fati ahhh sono giù ahhh 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 acqua state attenti che dovete sparare la merda la merda in cazzo dici non si dira la parola in un video io sono luigi bravo ciao luigi e tu hai detto pitch no tu che hai detto e tu hai detto Gigi io sono pitch ma io non sono ma troviamo e un fungo utile un fungo un pal quello è mio non mi lanciare dove vuoi aiutare non è mai lanciato non è mai lanciato non lo perdere un chat se mi evitate di prendere i bravi 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 io tuo fotti ah Dix ce la fai a prendere ero solo io però non ci riesco ero solo io no Dix ero solo io non è mai successo Dix ma Dix è morto aia ma mi fai male ma mi fai male ma mi fai male si infatti FROCHO ma l'ho rotta la corona FROCHO infatti prima mi ha fatto male proprio mi stanno fallo di merda fallo di merda ma non aia non lo perdere quel coso che serve alla fine non so se voglio non lo perdere quel coso che serve alla fine non so se voglio di colpirmi non ci ho proprio pensato non l'hai perso non capisco niente non rompere il tubo Dix non si rompe il tubo tu ti rompi il tubo ehi non hai fatto male falco non in eh non in ma ora sono ancora aha io sono quadrato va bene ma che quadrato ma questo non è in bowser è per sotto grazie prego muore Dix ma se ci saltiamo in test muore Dix ma questo che succede? niente aiaaa succede che muore Dix ah ma hai tutto il capo no Dix come è successo? no ma no ma fortiti ho perso anche il peso che cazzo ma hai preso la coca la coca la coca dici qualcosa con un senso eh io no Dix hai fatto perdere il cannone eh meglio così non ci uccidi eh ma io mi divertisco ma non adesso non lo possiamo vedere ah Dix vai su non lo possiamo uccidi fuzzau duck oh, B oh Peppe doc perché mi voglio una fottere la mia corona la mia corona tu sei una fottere la mia corona fottetela perché ti sei schiacciato ahah che arriva alla fine noo la pazza 2 li ho gotti tutto la pazza no 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 non quelli z no che quello è Dix non spogliere il fatto che tu sia Zelda Nel livello Spolerato non è spolerato Intorno con le zilla chi vuole un biscotto di No, non voglio Due Vabbè Devo andare a trovare di x Dix Non pubblichiamo niente dopo l'esperienza brutta dell'episodio precedente Ovviamente Scherzavo Metti interrompi i pipping precedente Allora salutiamo in particolare Rade Rade Ciao Aspetta C'è il martello che fanno i chiodi Si segnalano Esatto Ah Youtube Ti avviso se continui a segnalarci video di Super Mario ce ne andiamo su Dailymotion Minaccia Youtube Che ci caga perché noi siamo famosi E ci dai soldi E ci dai soldi E siamo money grabber Noi siamo talmente ricchi che adesso Siamo talmente ricchi grazie Se siete divertiti in questo video vi devo ricordare di mettere mi piace Mi piace E commentare E di descrivere Dix Dic Descrivere Dix in tre semplici parole Cioè condividete scrivendo Dic Se lo fa qualcuno sul serio gli do un bacio nella pazza Ciao Un bacio nella pazza